Ehi, sarà Tommy Turner! Ehi, chi c'è? Chi è là dietro? Bastardi affamati! Andate via di qui! Ah, non vi allarmate! Siamo addetti dell'ufficio passere! Siamo qui per controllare le passere irregolari! Venite avanti e aprite le gambe! E che cosa volete controllare? Certificati d'origine e di garanzia! Sarà meglio che venenziate di mio! Passerete dei brutti guardi! Ehi, Tommy! Se Pipino è con te è meglio che chiuda gli occhi! Corre il rischio di farvele! Sono arrappate e arrappatissime! Quelle vogliono che le guardiamo! Sono arrappate e arrappatissime! Vedete? Non se ne vanno! Beh, proviamo! Cristo, c'è una che abbucca! E io? Che schifo! Divertente, eh? Ora vi do qualcosa per giocare! Tommy, che cosa fai? Ehi, che succede? Ehi, che succede? Ehi, sta fermo che viene a prenderlo! Ma che fai? Sfotti! Fa le bave! Ciao, sono Paolo Uccello! E mi sorride questa prospettiva! Oh, fermo ora che viene a prenderlo! Ragazzi, lo vuole di brutto! E lo avrà! Va sull'uomo! Sì! Ci si avvenga! C'è quasi sopra! È fatta! Lascia! Ti ho in mano, Tommy Turner! E ora ti porterò dal direttore! Ha trovato chi lo prende sul serio! Non la mollare, eh!